Ben ritrovati, ben ritrovati a Pour Parler, un'occasione per incontrare e dialogare, seppur virtualmente, con alcune delle voci più attuali della filosofia italiana, in occasione dell'uscita di testi, di opere, di saggi, di riflessioni inedite, nonché una delle rubriche del Festival Filosofico Sofia, la filosofia in festa. Saluto, ringraziandolo di cuore per aver citato ancora una volta il nostro invito, Pietro del Soldà. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. È sempre un piacere, un po' una particolare stranezza parlare privatamente con Pietro del Soldà, a dialogare con lui, perché è come dialogare con una voce inafferrabile che continuamente ascoltiamo per le onde radio che accompagnano le nostre giornate. È un po' come appunto quella di un attore con cui si riesce a scambiare qualche parola fortunata fuori teatro. Storico autore, appunto, e conduttore radiofonico Radio 3, dove ogni giorno affronta tra i più fondamentali nodi, contronodi culturali, politici, economici dei nostri anni, sempre con grande attenzione e forza, ma prima di tutto filosofo. E infatti dell'ultimo lavoro filosofico di Pietro del Soldà parleremo oggi, La vita fuori di sé, una filosofia dell'avventura edito a Marsiglio. Ecco, e Pietro del Soldà, di altre onde parliamo oggi. Il mare è forse uno dei grandi protagonisti, metaforici e non, di questo viaggio filosofico nell'avventura che ci ha fatto fare, che ci sta facendo fare con questo testo. Tantissimi sarebbero i punti da cui iniziare, ma prima di tutto vorrei chiederle come è nata l'occasione e l'idea di questa riflessione, partendo proprio da questo titolo, un titolo che mi ha ricordato un po' Romain Garry e Simmel insieme, La vita fuori di sé e filosofia dell'avventura. Ecco, che cosa c'è innanzitutto dietro questo titolo? Beh, c'è la... Allora, nasce da un lato, da una riflessione che abita in me da molti anni, questa attenzione all'altrove che ci anima, che penso sia una delle cifre della condizione umana, che del resto è stata a lungo indagata ed è anche al centro di, almeno parti, delle grandi tradizioni filosofiche del Novecento, la stessa idea di un'esistenza come esistere, come uscire da uno spazio dato, dalla situazione, un desituarsi come condizione fondamentale dello stare al mondo degli esseri umani, negando la quale neghiamo anche la nostra stessa umanità. Se noi invece privilegiamo l'idea di una esistenza che insiste e, appunto, rimane il più possibile all'interno di un cerchio già tracciato e noto, rimuovendo il contatto con l'altrove, andiamo contro la nostra stessa inclinazione, distruggiamo la nostra creatività, alla fine lasciamo in evase e insoddisfatte le nostre passioni, i nostri grandi dirideri. Quindi nasce da questo spunto insieme anche a una grande passione mia, insomma, per il viaggio, per i luoghi lontani, per i gesti compiuti nei secoli da coloro che hanno superato le frontiere che non sono solo le frontiere fisiche, ma sono anche le frontiere disciplinari, sono le frontiere esistenziali, sono le barriere di ogni tipo che ogni epoca ha posto come argine allo sviluppo, alla libera espressione della creatività e dell'emotività dell'essere umano. E così accade anche oggi, in un tempo in cui, di fronte a un mondo così incerto, tendiamo a rinchiuderci, a serragliarci, trincerarci dietro un muro oppure io lo chiamo anche un guscio individuale che ciascuno si porta presso e dentro cui si protegge dalle minacce di un mondo esterno sempre più difficile da capire e quindi da questo punto di vista è anche una risposta giustificabile, comprensibile, perché il mondo esterno oggi fa paura. La pandemia e la guerra hanno alimentato ulteriormente questa paura e questa volontà di tirare i leni in barche, in buona sostanza, di non vivere più proiettati verso l'oltre, ma concentrati sul qui, sul poco di certo e rassicurante che abbiamo. Tutto questo, se è giustificabile e comprensibile, ha però una ricaduta molto, rischia di avere una ricaduta molto negativa sul nostro equilibrio psicologico, sulle nostre emozioni, sulla nostra capacità di entrare veramente in contatto con noi stessi. Citavi Georg Simmel, che in effetti ha dato un po' il là a questo libro quando io, diversi anni fa, Lessing, tre anni fa mi pare, per la prima volta quelle pagine del breve saggio Filosofia dell'avventura, dove lui individua l'esperienza avventurosa, non come per forza il viaggio in capo al mondo, bensì come quel frammento di una nostra biografia che fuoriesce dal ritmo ordinario dell'esistenza, ma non è una scheggia impazzita che prende la tangente e se ne va, bensì al contrario, pur essendo qualcosa che non c'entra con la monotonia del quotidiano, come dire, ha la caratteristica di far venire alla luce ancora meglio delle cose quotidiane, le nostre vere inclinazioni, chi siamo veramente, mettendoci cioè ancora più in contatto con il centro della nostra esistenza. Questa è un po' la paradossalità dell'avventura. L'esperienza è centrica, ma è per qualche ragione che Simmel stesso definisce in più occasioni misteriosa, connessa indistricabilmente al centro della nostra persona, della nostra esistenza, facendo emergere, lui dice, le nostre inclinazioni più profonde. Inclinazioni che invece rischiamo di rimuovere, di ignorare, se rimaniamo così, nell'insistenza invece che nell'esistenza, chiudendoci appunto nel cerchio del poco di noto e rassicurante che abbiamo sotto mano. Ecco, uno dei motivi, diciamo, per cui è sempre un piacere leggere libri Petro e Soldà è appunto la capacità che essi hanno di far dialogare proprio narrativamente, romanzescamente luoghi, volti, voci anche molto distanti del tempo e nello spazio, un po' annullando le loro distanze, anzi giocano in queste distanze, Milzia, De Rodotov, Unum, volti anche Levici, Montegna, tutto però appunto a partire dall'occasione di un'urgenza dei nostri tempi. Appunto lei, Pietro e Soldà, afferma nelle prime pagine del suo libro che tre sono i grandi problemi del nostro tempo, però sono tutti, diciamo, riassumibili con un motto mancanza dell'altrove. Che cosa intende con questa espressione? Allora, i tre fattori di crisi della condizione umana contemporanea che io individuo e spiego nei primi due capitoli del libro che sono i più teorici, diciamo, filosofici, poi i successivi sono anche molto narrativi, mette insieme storie anche molto diverse tra di loro. I tre fattori, dicevo, sono quella che chiamo con un'espressione forse forte, ma insomma, che rende l'idea la tirannia dell'io, il fatto di essere sottoposti a, volontariamente sottoposti, al feticcio dell'identità individuale, questo I con la I maiuscola, quello che mostriamo agli altri nella vita reale e anche online, da questo punto di vista i social network hanno esacerbato un processo che era già in atto, no? Quindi questa esaltazione di un'identità individuale alla quale sacrifichiamo le nostre emozioni, i desideri divergenti, le cose che sembrano una perdita di tempo rispetto a questa continua costruzione di questo benedetto io. Qual è il problema di questo io, così inteso, che si pone quasi appunto come una monade di fronte al mondo esterno minaccioso e che vuole esporsi, esibirsi, competere, è che questa costruzione identitaria non ci rappresenta davvero, è limitata, esclude tutte quelle parti di noi stessi, quelle emozioni, quelle idee, quelle esitazioni che stanno dietro a ogni gesto che compiamo, i tentennamenti, le scelte a cui rinunciamo, insomma, quel magma complesso, emotivo e anche ideativo che sta dietro ad ogni gesto che tendenzialmente però non è compatibile con quell'io con il quale tendiamo a identificarci e oserei dire ad aggrapparci come fosse il nostro ultimo baluardo. Dunque, in realtà è un vero e proprio sacrificio quello che compiamo identificandoci con quell'io rigido, con quella che un antropologo che io cito nel libro Francesco Remotti diversi anni fa identificò come identità forte, che si impone sul magma continuo e privo di forma della vita emotiva come se fosse appunto una imposizione dall'alto, una forma definitiva che argina l'esistenza e le pone il proprio sigillo. Così facendo, ancorandoci a questa identità che poi è individuale ma anche collettiva, appunto, rischiamo di perdere contatto con noi stessi. Accanto a questo primo fattore di crisi, la tinania dell'io, ma chiaramente interconnessi ad esso, sono gli altri due, cioè quella che chiamano la trappola delle aspettative. Cosa sono le aspettative? Sono quelle che gli altri, ma alla fine anche noi stessi, continuamente nutriamo nei confronti delle nostre azioni. Agiamo nella convinzione che vi sia una sorta di giuria invisibile che continuamente valuta quello che facciamo da ogni punto di vista, sia nella vita professionale o scolastica, ma anche nella vita privata, nella vita sentimentale, nelle relazioni unicali. Siamo sempre ossessionati dal giudizio, dalla valutazione delle nostre performance, no? E questa destinazione performativa dell'esistenza contemporanea che è una delle caratteristiche soprattutto delle società occidentali, ma non solo. Allora, anche qui, il problema qual è? È questa interiorizzazione che noi facciamo, perché da un lato siamo ossessionati dal giudizio degli altri, siamo convinti che chissà perché poi gli altri dovrebbero seguirci fin nei neandri più reconditi della nostra esistenza come fossero degli stalker per guardare ogni singola azione e valutarla. E poi, a nostra volta, interiorizziamo questa cosa, quindi diventiamo anche giudici delle nostre singole azioni, dimenticando una cosa, che in tribunale giudice e imputato saranno sempre su due piani diversi, sono separati costitutivamente. Noi, introiettando il conformismo radicale di questa visione del mondo, introiettiamo anche quella separazione, quindi siamo lacerati tra un io che agisce e un io che valuta e in tal modo finiamo in realtà per perdere ogni armonia interiore, ossessionati peraltro da questa modalità conformistica che è peraltro ansiogena, quindi ha delle ricadute sul nostro benessere psicofisico. Terzo, diciamo, siamo, chiaramente sono tre tasselli di un unico mosaico, tre tessere di un unico mosaico. Terzo fattore di crisi l'ossessione per il risultato a breve termine. Io utilizzo mutuo un'espressione inglese lo short termism che viene dalla finanza da quando molti decenni fa con i rendiconti trimestrali la finanza divenne un calcolo immediato dei risultati degli investimenti perché poi noi in realtà anche nella nostra vita procediamo nello stesso modo, compiamo un gesto pensando al risultato e quindi non a tutto quel complicato processo che sta dietro un'azione che non c'entra con il risultato finale e poi il risultato immediato senza perdendo sempre di più anno dopo anno la dimensione progettuale, l'estensione del nostro sguardo sul futuro oppure anche guardando le nostre radici nel passato tendiamo a identificarci con quella rappresentazione di noi stessi che è nel presente a brevissimo termine. Queste tre caratteristiche che ovviamente spiego con molto di spazio e analisi nel libro vanno a creare quella condizione di crisi contemporanea che poi definisco come una mancanza di un altrove di un contatto profondo con l'altrove altrove fisico altrove psicologico altrove culturale altrove umano l'altrove di noi stessi a cui aneliamo ed è proprio da qui che io prendo le mosse per vedere se i grandi personaggi del passato del passato remoto come erodoto protagonista dei primi due capitoli e con le sue narrazioni delle guerre persiane o più vicini a noi come lo scienziato Alexander von Humboldt in diverso modo tutti proiettati sempre oltre la frontiera oltre il confine non abbiano qualcosa da dirci da insegnarci qualche stimolo su cui ragionare appunto per provare a rompere questo guscio dentro cui siamo rinserrati. Ecco mi permette di pescare uno di questi personaggi che è proprio l'ultimo che ha citato un personaggio che mi è molto caro volevo appunto introdurlo leggendo alcune parole del suo libro che recitano ecco che cosa cercava Alexander ecco dove ci porta l'avventura ma indietro sempre avanti verso un nuovo mondo eccitante pieno di meraviglie ma anche di lotte sanguinose di verità crude di colori magnifici di sensazioni che sordiscono di emozioni esplosive di fatica di insicurezza costante di piante difficilmente descrivibili di gli animali ed esseri umani con i quali entrare in sintonia assai più di quanto li fosse riuscito con gli altri animali umani quelli che vivevano imprigionati nella trappola delle convenzioni europee ecco che cosa ci racconta questo personaggio così particolare e perché l'ha scelto tra i protagonisti di questo suo viaggio per diverse ragioni Alexander il suo nome è stato il più grande botanico il più grande scienziato della natura ma anche è stato un proto climatologo ha avuto delle intuizioni che sono state poi decisive per lo sviluppo di tante branche della scienza nei due secoli successivi ma era soprattutto un amante oltre che della natura nella sua Prussia era figlio di una nobile famiglia è cresciuta a due passi da Berlino ma era soprattutto un giovane europeo intriso anche dell'afflato romantico ha vissuto anche a Iena è stato amicissimo di Goethe come io racconto nei primi passi del capitolo a lui dedicato e anelava a conoscere i mondi lontani quelli che Thomas Cook Bougainville scoprivano nelle loro navigazioni di cui vedeva qualche traccia nei disegni che venivano riportati o nei loro diari di bordo voleva andarlo a scoprire questo mondo e lo fece lo fece dopo aver sofferto a lungo l'impossibilità di partire perché la madre che era una donna molto rigida abbastanza affettiva nonostante i risocconti e i diari gli impediva di farlo la madre morì quando Alexander era già grande aveva 27 anni insomma nei primi dell'ottocento significa essere adulti e a quel punto la sua vita cambia investe tutto il denaro che eredita nella costruzione della prima grande spedizione e parte per il Sud America dove passa cinque anni di avventure davvero formidabili incredibili incredibili scopre affluenti del rio delle Amazzoni si da solo arriva a 6.000 metri di altitudine sul vulcano Cimborasso in Ecuador quindi valica anche quella frontiera non solo le frontiere dell'Europa ma anche la frontiera dell'avventura fisica ma così facendo lui supera soprattutto delle frontiere mentali e culturali conosce i popoli indigeni dell'America Latina e capisce per la prima volta che non vi è gerarchia non sono popoli inferiori agli europei ma hanno delle culture e delle tradizioni che valgono quanto le nostre primo punto quindi diventa un antirazzista un antischiavista ed è fondamentale questo perché avrà un grande rapporto per esempio più avanti col presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson che lo convocò alla Casa Bianca per conoscere le sue informazioni intorno al continente latinoamericano e Jefferson era un democratico diventarono amici però era uno schiavista ancora aveva i schiavi questo è un elemento che le divise fu anche un anticolonialista perché pensate che la sua immagine dell'America Latina fu poi decisiva quando tornò in Europa per la prima volta era ancora giovane aveva 35 anni era un uomo famoso tutti lo volevano perché era un grande narratore era anche bellissimo tutte le donne si innamoravano di lui ma lui molto probabilmente era omosessuale ed era poco interessato a queste attenzioni femminili e lui è in fondo questa idea dell'America Latina come continente unitario come una straordinaria terra ricca di risorse naturali a chi? a un giovane esule venezuelano che viveva a Parigi bighellonando che era Simon Bolivar l'uomo che poi anche grazie alla lezione politica che gli fece anticolonialista che gli fece ritornò in Sud America e avviò i grandi moti dell'indipendenza che hanno reso i paesi latinoamericani finalmente liberi dalla corona spagnola questa è anche la responsabilità di Fonulo però l'elemento fondamentale di quest'uomo è un altro connesso a quelli che ho appena elencato cioè lui è lo scienziato che per primo nella storia del pensiero moderno supera il dualismo tra l'uomo e la natura la scienza moderna è figlia di quella separazione ontologica tra la sostanza pensante e la sostanza estesa per usare le parole di Cartesio che dal sedicesimo secolo in poi condiziona l'approccio dell'uomo alle risorse naturali l'uomo si pensa signore della natura ne è superiore ha una conoscenza e una capacità tecnologica che via via si affina nei secoli e che gli consente di conquistare la natura di saccheggiarla di piegarla ai fini umani in questo senso anche legittimato dell'antropocentrismo cristiano e questo processo come ovvio porta alle condizioni in cui noi viviamo oggi c'è una perfetta continuità in tal senso anche se la scienza a sua volta invece ha seguito anche un'altra strada e oggi è la scienza per prima ad avvisarci di quanto sia sbagliato questo approccio predatorio nei confronti della natura ma quello che a me è interessato è il movimento che sta dentro la figura di Von Humboldt superando il dualismo uomo-natura superando quella frontiera lui scopre l'unità cioè andando oltre la frontiera lui ricompone l'uomo e la natura coglie l'inconsistenza di quell'abisso ontologico che i filosofi moderni avevano posto tra la scienza e la posizione dell'uomo e quella degli altri esseri viventi delle piante e dell'ambiente naturale capisce che il sistema è unico quindi infonde questa idea di un'unità della natura dentro la quale l'uomo sta ma ha le sue responsabilità e non c'è alcuna gerarchia degli esseri questa idea che è geniale anche dal punto di vista scientifico lui continuamente procede per comparazioni analogie tra specie vegetali che conosce in Amazzonia e altre che vedrà più avanti in altre zone in Russia oppure descritte da altri viaggiatori sui diari di viaggi in altri paesi insomma crea questa idea di un sistema unitario che è il mondo nel suo insieme in tal senso lui è veramente come sottolinea giustamente sottolineano sia Franco Farinelli il grande Gio ma soprattutto Telmo Pievani che hanno poi accompagnato la pubblicazione di un capolavoro di Fonumbo che sono i quadri della natura è un protoecologista cioè lui è il progenitore di Fridays for Future di Greta Thunberg e Vanessa Nakate che oggi ci abbracciano quell'ecologia integrale che poi è anche la stessa di Papa Francesco quindi un'unità dell'uomo della natura che è anche un superamento delle gerarchie tra gli umani è anticoloniale è antirazzista e da questo punto di vista è molto interessante anche la sua parabola biografica e poi chiudo questa mia lunga risposta me ne scuso ma Fonumbo mi ha passione no no anzi Fonumbo grazie alle sue scoperte i suoi viaggi formidabili alla sua attività letteraria prolifica incredibile diventa l'uomo più famoso veramente l'uomo più famoso d'Europa non solo d'Europa del mondo lui viene conteso tra appunto la Casa Bianca perfino in Australia lo amano tutti lo vogliono a sé la corte prussiana Parigi le società geografiche di mezzo mondo in Inghilterra è ospite e dà lezioni incontra peraltro un giovane Darwin che confesserà di essere fortemente condizionato poi nel suo sguardo sulla natura dell'opera di Fonumbo ma diventa famoso appunto che Napoleone lo convoca se è un po' irritato perché sa che qualcuno gli ha detto gli ha messo la pulce nell'orecchio che forse Fonumbo alla fine è ancora più famoso di lui lui dirà ma lei chi è scusi io sono un botanico maestà risponde Fonumbo da Napoleone Napoleone con sprezzatura che dice anche mia moglie sia passione sia o che la cosa incredibile è che dopo aver raggiunto questa notorietà aver messo in rete migliaia di scienziati con le poche tecnologie a disposizione dell'epoca creando così non c'è quella che è oggi la comunità una comunità alimentata dal continuo scambio di informazioni quella a cui dobbiamo per esempio l'individuazione del vaccino contro il covid in tempi così rapidi lui è stato il primo a pensare a una comunità scientifica del tutto sovranazionale che se ne frega altamente di ogni frontiera di ogni prerogativa nazionalistica era veramente antinazionalistico da questo punto di vista pur con qualche ombra anche lui era umano perché poi accettò il ruolo di ciambellano del regno di prussia cioè chiaramente aveva le sue ambiguità e anche le sue asperità caratteriali ma su questo io parlo nel libro ma ora forse è meno è meno rilevante la cosa interessante è che dopo la sua morte a cui segue una celebrazione quando è il suo centesimo compleanno in tutto il mondo cioè è un uomo che chiama in strada a salutarlo migliaia e migliaia di persone in tutti i continenti un riferimento della libertà di pensiero della appunto della libertà dell'essere umano poi sin abissa la sua fama si affievolisce fino a sparire letteralmente per tutto l'arco della fine dell'ottocento e del novecento e a riemergere nel secondo dopoguerra ma come un personaggio conosciuto e studiato dagli addetti ai lavori dagli esperti di botanica di scienza della matura di climatologia al suo nome c'ha la famosa corrente di Humboldt che lambisce le coste di acqua fredda le coste americane e però la sua ricchezza la sua grandezza dal punto di vista culturale oltre che prettamente scientifico è rimasta del tutto in ombra perché probabilmente perché era incompatibile con quell'impetuoso sviluppo industriale tecnologico predatorio nei confronti della natura che si stava annunciando e affermando quando lui era ancora in vita e dopo di che il suo messaggio era incompatibile possiamo forse aggiungere il fatto che era tedesco quindi l'esito della prima della seconda guerra mondiale non ha favorito gli intellettuali tedeschi però questo vale fino a un certo punto perché invece grandi nomi della filosofia germanica sono rimasti in auge anche nei momenti peggiori di peggiore fama invece questa cosa lui non è accaduta e probabilmente proprio per questa sua diciamo così incompatibilità con i tempi ma anche modernità straordinaria lui è un anticipatore dello sguardo che i più intelligenti oggi hanno nei confronti della natura ed è vissuto due secoli fa lei scrive a un certo punto nel suo libro ci siamo ulteriormente addomesticati ripiegando all'interno di quello spazio privato cinto dalle pareti di casa che ormai segnano un confine tra il dentro e il fuori stava parlando della pandemia delle conseguenze che questo ha avuto sulla tendenza a creare limiti confini prigioni però spesso assistiamo anche a fenomeni opposti a fenomeni in cui ad essere temuto è proprio il confinamento la paura del domestico della ripetizione che spesso combattiamo come con una sorta di nomadismo esasperato ecco in che modo allora un'etica dell'avventura se si può parlare di questo termine deve prevenire tanto i rischi di un confine che ha una prigione e d'altra parte di una libertà che rischia di annullarci è proprio così noi siamo da un lato oppressi spaventati e la pandemia ha aumentato questo terrore dell'esterno io nel libro mettendo insieme appunto pagine dedicate a cose antiche a riflessioni sul contemporaneo riporto per esempio i dati sull'evoluzione dei consumi durante la pandemia è un'indagine fatta dal McKinsey Institute che ci mostra come le cose i beni di consumo che vanno per la maggiore ancora anche oggi che il pericolo covid è diminuito sono cose che hanno a che fare col nostro stare in casa no? col nostro lavorare divertirci fare attività fisica quella che prima si faceva magari in palestra tutto dentro casa vivere la socialità anche spesso a distanza dentro casa magari in Italia questa cosa è successa meno altrove è più forte più esasperata esasperata accanto a questa tendenza però c'è la contraria tendenza a vivere sempre una libertà indefinita pensare alla felicità solo come una continua soddisfazione dei desideri contro ogni misura perché noi siamo anche in crisi di una mentalità quella della crescita infinita che non vale solo per le economie nazionali ma anche per noi stessi singoli l'idea è che stiamo bene solo se evitiamo ogni giorno la rinuncia se ogni desiderio che ci passa per la testa per il corpo lo riusciamo a soddisfare e quindi via a cercare la ricchezza gli strumenti che ci consentano di soddisfare questi desideri evitando l'amaro sapore della rinuncia in questo senso siamo veramente stretti in una morsa la chiusura da una parte appunto la perdita di contatto con l'esterno dall'altra una libertà mal intesa come un liberarsi di ogni laccio o lacciuolo questo libro è invece il tentativo anche di fondo di restituire un'idea diversa e più complessa della libertà quella libertà che per prima emerse nell'opera di erodoto che racconta le guerre persiane e da lì io infatti parto e l'eutferia intesa proprio la libertà che gli atenisi cercano di difendere quando escono sulla piana di maratona contro i persiani che non è licenza assoluta non è assenza di forma non è assenza di misura o di regoli o di giustizia al contrario la libertà va sempre intesa come era per gli atenisi insieme ad un'altra parola greca che è isegoria cioè l'uguale diritto di parola nella città libertà e uguaglianza libertà e democrazia libertà dunque e responsabilità non ha senso concepire la libertà come la sfrenatezza della licenza assoluta nella ricerca del piacere infinito la libertà è quella attiva partecipazione alla vita della comunità della polis di cui si è parte e cercando di dare anche nello stesso tempo forma e governo a quella città interiore che alberga dentro di noi fatta di una pluralità di voci e passioni questa è la libertà che noi dobbiamo recuperare ben consapevoli ma lo era già Erodoto che la libertà non è una prerogativa di alcuni spesso Erodoto viene interpretato come l'alfiere della superiorità etnica e culturale dei greci nei confronti dei barbari io invece evidenzio i passi delle sue storie dove viene fuori l'opposto Erodoto oltre ad essere già dal proemio il cantore delle grandi imprese dei greci e dei barbari nella stessa misura è il cantore di una libertà quella che i greci difendono a Maratona e poi dieci anni più tardi nella battaglia di Salamina nella seconda guerra persiana che non è prerogativa esclusiva dei greci gli attinesi sono certo sì gli unici ad avere retto la polis sull'idea di libertà quella libertà affermata eroicamente dai tirannicidi trent'anni prima di Maratona gli uomini che uccisero uno dei pisistratili insomma e affermarono la libertà contro l'assolutismo del potere però questa libertà dice Erodoto in realtà i greci l'hanno ereditata da quei tirannicidi che avevano nelle proprie vene san fenicio sangue persiano questa è una digressione che lui fa proprio in quei passi secondo me è la prova lampante del fatto che lui ci sta comunicando qualcosa lo sta comunicando agli atenesi che ascoltavano le sue orazioni pubbliche sulle guerre persiane la libertà non è una prerogativa vostra perché avete un sangue diverso che scorre nelle vene è qualcosa di universale che pertiene a tutti gli esseri umani greci e barbari ed è per questo che dovete appunto uscire dalle mura di Atene per me il singolo più bello di quello uscire dal guscio nell'avventura di cui parlavo e affermando una misura e un governo che richieda che si basi appunto su eleuferia e isegoria uguale diritto alla partecipazione alla vita della comunità io la ringrazio di cuore per questo dialogo e pietro e soldà per averci permesso di entrare ancora meglio nel suo testo adesso diciamo che il compito di imboccare questi sentieri sta ai lettori e per farlo se vera un viaggio ma immobile cioè la lettura di La vita fuori da sé una filosofia dell'avventura edito da Marsiglio grazie infinite Pietro grazie grazie a voi e grazie a voi che ci avete ascoltato l'appuntamento al prossimo pur parler arrivederci a presto